Questa mattina un esemplare di cervo reale maschio dell'età apparente di tre anni e mezzo è stato recuperato nel canale di irrigazione in località Falagato di Altavilla, Silentina, da uno studente di medicina veterinaria, Rosario Scorziello, che ha salvato e recuperato lo stupendo esemplare provenendo a legare le corna ramificate del cervo per tirarlo fuori dal canale dove sarebbe sicuramente annegato. Il servizio veterinario dell'unità operativa di Eboli ricevuta notizia si è attivato immediatamente per il recupero e la reemissione sul territorio del comune di Postiglione dove esistono altri esemplari liberi nel Parco Nazionale del Cilento, del Vallo di Diano e degli Alburni.